Ridurre i consumi di energia e contenere le emissioni inquinanti, quindi da un lato risparmi in bollette e dall'altro difesa dell'ambiente. Per farlo è stramesso sul tavolo 6 milioni di euro con il bando Call for Energy Saving, destinato a finanziare interventi di efficientamento energetico. Destinatari del progetto sono le imprese della Toscana e delle Marche che operano nell'industria e nel terziario. Le imprese interessate dovranno inviare la loro candidatura via mail attraverso il sito www.impresaverde.estra.it. L'unico spazio che hanno ancora le imprese per ottenere rilevanti risparmi sul piano della bolletta è quello di investire nella modernizzazione dei propri impianti, caldaie, gestione calore, impianti fotovoltaici, cioè implementare le proprie risorse impiantistiche finalizzate al risparmio energetico. Spesso gli imprenditori sono poco informati, spesso non hanno sufficienti risorse da anticipare e quindi credono poco nella capacità di rientro di questi investimenti. Estra vuole rompere il ghiaccio e offrire denari propri che vanno a sostituirsi a quelli dell'imprenditore che potrà comodamente in bolletta sostenere appunto magari anche risparmiando. Quindi un modo intelligente che può fare solo una ESCO che è una società con un profilo giuridico particolare che tra l'altro assicura il risultato anche finanziario e diciamo dal punto di vista del risparmio energetico cioè non c'è nemmeno il rischio imprenditoriale in capo all'imprenditore che se lo assume totalmente estra. Si pensa ovviamente anche alla tutela ambientale? E' chiaro che l'obiettivo complessivo non è solo il risparmio dell'imprenditore ma la diminuzione delle emissioni e quindi il miglioramento complessivo del nostro ambiente. Quanto potranno risparmiare gli imprenditori? Secondo del tipo di intervento non si parla certo di imprenditori fortemente energivori che sicuramente si sono già attrezzati nel tempo, si parla di medie aziende che magari hanno una spesa rilevante e che potrebbero risparmiare a seconda dei casi da un 20% a un 40%. Quel 20% o quel 40% di risparmio sarà destinato a sostenere l'investimento che estra anticiperà.